Negli ultimi anni abbiamo assistito sul mercato bancario, così come in tutte le altre industrie, a una trasformazione delle esigenze dei clienti e una sempre maggior digitalizzazione dei clienti stessi, che hanno portato le stesse banche e istituti finanziari a creare e predisporre sia prodotti e offerte innovative e sia a migliorare e rendere più evolute le modalità di erogazione dei servizi ai clienti. Tutto questo ha portato quindi a ripensare anche a quello che è il ruolo del contact center, degli istituti finanziari, andando appunto incontro ad un'esigenza sempre più 24-7 espressa dai clienti e in una logica multicanale. Nel far questo Accenture ha pensato al customer center del futuro, potenziato dall'artificial intelligence, che si pone appunto l'obiettivo non solo di ottimizzare la workforce lato banca e quindi di ottimizzare le composizioni dei team a supporto dei contact center, ma anche si pone l'obiettivo di aumentare le possibilità di cross-selling e up-selling attraverso i contatti dei clienti, così come anche di migliorare il livello di soddisfazione dei clienti stessi migliorando la customer experience. Tutto questo come si realizza? Si realizza con un contact center in cui ai canali tradizionali si affiancano gli agenti virtuali. Gli agenti con questo innesto i principali benefici sono sicuramente la riduzione dei tempi di risposta al cliente e quindi comunque una migliore user experience del cliente stesso e d'altro lato, ovvero dal lato della banca, si ottiene una maggior liberazione del tempo commerciale a disposizione degli operatori. Grazie a tutti.